Sì, sarà sicuramente una battaglia, è come se si ricominciasse il mondiale da capo, quindi bisogna entrare con la testa, concentrazione a 2000 e partire come siamo partite. Quanto ti piace questa Italia? Tantissimo. Questa è l'Italia dei muri, ne ha fatti di più contro le squadre più forti, quelle alla ricerca di una medaglia. 19 contro la Cina, campione olimpica, 15 alla Russia e 15 agli Stati Uniti, campioni del mondo in carica. In totale, in due fasi e in nove gare, 103 block in. Ed ora a Nagoya per ricercare un posto tra le migliori quattro del mondiale giapponese. Fa paura questa Italia così perfetta, giovane, 23 anni di media e senza riguardo che riesce a maltrattare avversari di ogni calibro. Anche le ragazze, molte nel campionato italiano, degli Stati Uniti sono state strapazzate, solo piccole reazioni come il terzo set lasciato andare però delle azzurre. Poi di nuovo tanta Italia, tanta bella Italia, l'Italia che vuole e può continuare a sognare. Questo per noi è stata una sorta di conferma perché avevamo voglia di giocare contro le campionesse in carica del campionato del mondo e avevamo voglia di metterci alla prova e di fermarle e portarci a casa altri tre punti. Ok, non posso dire che è come se non fosse stato fatto niente, ma adesso si riparte da zero, ci sono altre cinque partite importanti e si va avanti, cariche. Cosa dite l'Italia? Guardateci. Seguiteci. Ciao.